Mentre la città si prepara ad accogliere la grande maratona jazz di sabato e domenica in centro storico, al Conservatorio è stato presentato il progetto per la prima orchestra Giovanile Jazz. Si chiama l'orchestra che vorrei, il Jazz Vascuola, che è un'associazione nazionale che fa parte della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano. Il direttore artistico dell'orchestra è Pasquale Innarella, capofila in partnership con il Conservatorio Casella, e in rete con gli istituti comprensivi Carducci, Mazzini, Patini, Paganica, Rodari e Liceo Musicale, un progetto per vivere la musica insieme come socialità e integrazione, la nascita dell'orchestra e per diffondere cultura e prassi jazzistica, il sostegno finanziario del Comune e del Ministero della Cultura, l'obiettivo è rendere l'orchestra stabile, si coinvolgeranno giovani musicisti dagli 8 ai 18 anni, le attività saranno gratuite e si concentreranno da oggi e sino al 31 dicembre 2022. Il progetto dell'orchestra che vorrei è nato da un'idea di Ada Montellanico, Cacchierando, e me un paio d'anni fa durante il Festival Jazz dell'Aquila, durante i laboratori del Jazz Vascuola. La Jazz Vascuola è l'associazione che si occupa di lavorare nell'ambito del jazz per i progetti nelle scuole da 0 fino a 18 anni, quindi fino ai licei e ai conservatori compresi, per costruire un'orchestra, la prima orchestra istituzionale nell'ambito del panorama jazz italiano, un'orchestra di ragazzi da 8 a 18 anni. Il Comune dell'Aquila ha abbracciato l'idea, così come il Ministero, il MIC, attraverso un finanziamento FUS e il Conservatorio, soprattutto partner importante perché ha messo in campo i docenti del Dipartimento di Jazz, lo stesso direttore in prima persona e ci ha messo a disposizione i luoghi e le aule per poter svolgere il progetto. Ieri abbiamo fatto le audizioni, si sono presentati più di 70 ragazzi, tutti sono entrati nell'orchestra perché l'idea è creare un'orchestra inclusiva, quindi tutti faranno parte dell'orchestra con un nucleo un po' più strutturato di quelli che magari sono un po' più avanti, però porteremo tutti allo stesso livello. Il progetto si concluderà con un importante evento in collaborazione con i soggetti partner che si realizzerà a conclusione di tutte le attività didattiche a dicembre. L'orchestra che vorrei sarà protagonista di un concerto organizzato all'interno del cartellone natalizio del Comune dell'Aquila.